Probabilmente sai che quando si tratta di parlare di relazioni, soprattutto relazioni coppia, ci sono molte sfaccettature, molti aspetti che possono essere osservati per aiutarci a comprendere meglio quello che stiamo vivendo. Uno degli aspetti da osservare con attenzione, ad esempio, è quello del breadcrumbing, che è un termine relativamente nuovo, che è però usato sempre più frequentemente per descrivere alcuni fenomeni che accadono nelle relazioni, proprio quelle che riguardano, ad esempio, i nostri tempi contemporanei. Allora, in questo video ci focalizzeremo su questo aspetto, il breadcrumbing, dicendoci cos'è, quali sono i motivi per cui accade e come gestirlo se ci troviamo di fronte a questo fenomeno. Perché, come dico spesso, conoscere ci permette di riconoscere e nel momento in cui noi comprendiamo anche questo aspetto, saremo in grado di riconoscerlo eventualmente in una relazione che noi sentiamo non essere completamente appagante e quindi avere più strumenti per affrontarlo. Ma intanto diciamoci cos'è. Se lo traduciamo dall'inglese, possiamo dire che si può tradurre come pangrattrato, come briciole di pane, ma se lo applichiamo come viene fatto alle relazioni, potremmo dire che si tratta di briciole di affetto, di attenzione, che una persona all'interno di una relazione può dare all'altra in modo tale di trattenerla presso di sé. Potremmo anche definirla come una strategia emotiva manipolativa che viene utilizzata da qualcuno perché fondamentalmente non è sinceramente interessato alla persona che ha di fronte e neanche alla relazione. Però come potremmo dire, invece di essere serio, sincero, onesto e comunicare questa cosa e quindi dire guarda non sono completamente interessato ad avere una relazione seria con te, preferisce fare il breadcruming, cioè lanciare piccole briciole di attenzione, di affetto per cercare di mantenere l'altra persona sempre interessata alla relazione. Tenendola quindi nell'impegno che si è presi, ma senza sentirsi profondamente impegnato lui stesso o lei stessa nel voler portare avanti questo tipo di relazione. Quindi è come se, parafrasando una famosissima fiaba, quella di Pollicino, è come se le persone lasciassero una scia di briciole nel percorso per fare in modo che la persona che hanno con sé possa sempre un po' rincorrerli e trovarli. E in questo caso però non si tratta di briciole vere di pane, ma si tratta appunto, come dicevamo prima, delle piccole briciole di amore, attenzione e messaggi dolci, promesse che non si mantengono, ma che vengono lanciate ogni tanto per poter mantenere l'altra persona sempre interessata e impegnata. Capiamo però quanto possa essere frustrante e svilente per chi subisce questo tipo di atteggiamento da parte del proprio o della propria partner, perché lascia l'altra persona nell'insicurezza, nell'essere comunque costantemente in gioco, in bilico rispetto a una relazione, come se vivessero sempre nell'attesa di un qualcosa che poi però non arriverà mai. Ma se sei una persona che segue questo canale, sai che molte volte abbiamo parlato del disturbo di personalità narcisistico, di tanti aspetti che riguardano questo tipo di disturbo nella relazione. E uno degli aspetti di cui si parla spesso è il gaslighting, cioè il fatto di confondere l'altra persona dicendo le cose, poi negandole, quindi facendo anche false promesse, non mantenendole, dicendo di non averle fatte. E allora potrebbe essere simile al breadcrumbing? Proviamo a dirci qual è la differenza sostanziale. Forse potremmo dire che il breadcrumbing è una forma un po' più sofisticata di ingannare l'altro, perché chi lo pratica vuole flirtare, vuole anche passare del tempo con l'altra persona, ma ha difficoltà, oppure non vuole, impegnarsi in un rapporto, in una relazione seria. Quindi nelle briciole di amore che vengono consegnate e date al proprio partner, a differenza del gaslighting, non c'è l'intenzione di negare di averlo fatto, di aver flirtato, anzi c'è l'intenzione di mantenere questo aspetto. Anche se l'altra persona inizia a starci stretta all'interno del rapporto, il gaslighter cercherà di negare qualsiasi cosa, dirà che c'è stato un fraintendimento, che non ha capito, che non era vero. Il breadcrumbing invece cercherà di mantenere tutto questo, dando delle briciole per poter mantenere sempre l'interesse dell'altro. Non ha l'intenzione di comunque confonderlo a tal punto, da fargli credere che ha travisato tutto. Vuole mantenere quel tipo di situazione, ma senza impegnarsi. E proviamo allora a dirci se il breadcrumbing è simile alla scarsa comunicazione o ci sono delle differenze. Potremmo dire che il breadcrumbing è un tipo di scarsa comunicazione. Ma ogni volta che in una coppia c'è scarsa comunicazione, non è detto che questa la si faccia o non si riesca a comunicare bene perché si vuole manipolare l'altro. Ma semplicemente potremmo essere non capaci di comunicare. Invece questa è una tecnica manipolativa in cui una persona utilizza questo tipo di briciole per mantenere legata la persona a sé. Quindi lo fa con uno scopo di manipolarla. Quindi non è solamente una scarsa comunicazione. Allora approfondiamo questa tecnica cercando di dirci quali sono i segnali che possono metterci in guardia rispetto alla possibilità che una persona faccia dal breadcrumbing con noi. Una prima caratteristica è quella delle promesse non mantenute. Una persona che vuole tenerti legata a sé anche se non vuole profondamente impegnarsi probabilmente a un certo punto inizia a fare delle piccole promesse o anche grandi promesse. Inizia a parlare di viaggi, di scelte insieme, qualcosa che si vuole portare avanti come un progetto di coppia. Ma poi puntualmente queste promesse non vengono mantenute. Ma in questo caso non vengono negate le promesse. Se no no, viene semplicemente detto che c'è stata l'impossibilità di mantenerle, che quindi non si può, che bisogna rimandare, che è qualcosa che assolutamente farete di sicuro, ma che in realtà alcune situazioni hanno impedito che queste potessero verificarsi. Due, potrebbero utilizzare una comunicazione che potremmo chiamare intermittente. In alcuni momenti comunicano tantissimo, cercano di mandare messaggi, vogliono vedere la persona, cercano di essere presenti e poi da un momento all'altro iniziano a non scrivere più, a non rispondere velocemente. Poi passano la settimana e riprendono a scrivere o comunque a chiamare, a farsi trovare. E' come se viaggiassero sempre con tutto o niente e la persona rimane completamente spiazzata da questo atteggiamento, perché quando sono assenti sono veramente molto assenti, ma quando sono presenti sono anche molto presenti. E questo schema crea in chi lo subisce una costante tensione e incertezza nel viversi nella relazione. Tre, utilizzano anche la tecnica di fare molti complimenti e dare molte attenzioni, ma in maniera molto sporadica. Quindi, oltre alla comunicazione intermittente, ci sono anche questi aspetti di gradimento che sono intermittenti. Momenti in cui sei la persona più importante della loro vita, che ti fanno sentire che sei perfetto, perfetta, e poi spariscono e non ti dicono più queste cose per molto tempo. Poi c'è un momento in cui ritornano a dirti queste cose. E' come se cercassero sempre di elemosinarti un po' di attenzione e un po' di amore, soprattutto quando sentono che potrebbero perderti. Quarto aspetto è la mancanza di impegno. E questo è un segnale chiave. Cioè nel breadcrumbing è proprio la volontà di non impegnarsi. E fai fatica ad accettarlo, perché c'è del flirt, ci sono dei momenti anche appassionati, momenti in cui ti senti veramente di stare molto bene con questa persona, ma che poi svaniscono. E poi ritornano. E poi svaniscono. Perché sono fatti per mantenerti interessato a questa situazione, a questa relazione. A mantenerti comunque con la testa impegnata nel coinvolgimento, nel sentire ti coinvolto con questa persona. Ma la realtà è che appena sentono che il coinvolgimento aumenta, iniziano a prendere un po' di distanze. Perché non vogliono impegnarsi. Quando sentono che il coinvolgimento inizia a faticare un po', ritornano per poter coinvolgere di nuovo. E quindi la persona che subisce questo nuovo interesse sente come se potesse esserci qualcosa di più. Che quindi questa volta potrebbero diventare veramente una coppia importante. Ma ogni volta, nel momento in cui uno pensa di poter raggiungere una definizione o qualcosa di più serio, questa persona ritorna a fuggire e a non farsi sentire, a mancare di comunicazione, a mancare di complimenti, per poi quando ci raffreddiamo un po', ritornare. E allora chiediamoci, ma perché uno mette in atto questo tipo di comportamento manipolatorio? Perché una persona può praticare in una relazione il breadcrumbing? Non ha nessun senso logico, apparentemente. Quando una persona sta così bene con l'altra, perché dovrebbe invece ogni volta cercare di scappare e poi ritornare? Un motivo potrebbe essere proprio quello banale, forse, ma della paura di impegnarsi. Ci sono persone che non hanno raggiunto una maturità emotivo-affettiva o comunque non sentono di volersi legare a un'altra persona per paura di essere poi vulnerabili, di poter soffrire una volta che una persona inizia a essere seriamente coinvolta in una relazione. E quindi all'idea di potersi poi sentire feriti o ferite o di impegnarsi, sacrificarsi, preferiscono sempre mantenere questo tipo di atteggiamento che mantiene in superficie la relazione. Due, questa modalità di relazione può anche rappresentare una costante riserva di attenzioni, cioè nel momento in cui una persona si fa mancare, quando ritorna ovviamente viene accettata o comunque riceve più attenzioni di quelle che probabilmente avrebbe in una relazione costante. E quindi potremmo anche chiamarla un po' una specie di rifornimento, un bisogno di gratificare se stessi, sentire che comunque valgono, che comunque qualcuno pensa a loro, che qualcuno è innamorato di loro, ma senza avere l'obbligo di impegnarsi in qualcosa di più. Tre, potrebbe essere anche per un piacere di avere il potere sull'altro. Potrebbe anche godere del fatto di avere il potere di tenerla in sospeso, di essere comunque una persona importante per qualcuno, nonostante che non si voglia prendersi un impegno con quella persona. E quindi sentire di avere comunque un certo appeal, un certo potere nel farla sentire o farlo sentire apprezzato, ammirato, piacente. E allora questo gratifica per la possibilità di manipolare. E quarta motivazione è che alcune persone hanno veramente molta difficoltà a prendere delle decisioni o a comunicare che in realtà quella relazione non è per loro così importante. Hanno paura che se sono oneste, aperte e comunicano sinceramente di non essere più interessata alla relazione, l'altra persona possa soffrire e quindi esserci un problema con quella persona e allora preferiscono mantenere qualcosa in sospeso piuttosto che affrontarne le conseguenze di un'interruzione. Ma se ti sembra di vivere una relazione in cui la persona che hai a fianco ti sta dando qualche briciola di attenzione, di amore, ma non prende mai una decisione su come diventare, se interrompere o se aumentare il proprio impegno e quindi diventare una coppia più seria, tra virgolette, che cosa puoi fare per cercare di capire come reagire o comunque come gestire questa situazione per farla diventare o una relazione sana o comunque una relazione che si interrompe. E il primo passo è sempre quello di riconoscere i segnali anche di questo tipo di manipolazione, cioè riuscire a dirti che forse sei coinvolto in una relazione poco sana, l'accettare di non essere soddisfatti e quindi prendere consapevolezza della qualità della relazione che stiamo vivendo è il primo passo per poter iniziare a gestirla o comunque a trovare delle soluzioni che possano farci stare meglio. Anche in questo caso il fatto di conoscere ci permette di riconoscere e quindi di avere più potere. Secondo, bisogna essere in grado di dare dei limiti alla relazione che stiamo vivendo. Questo dipende molto anche dalla capacità di osservarsi, quindi di avere consapevolezza del proprio valore, il fatto di non permettere ad un altro di giocare con i propri sentimenti è qualcosa di fondamentale. Per fare questo allora io devo dire chiaramente quelle che sono le mie aspettative, ciò che io vorrei dalla relazione e ciò che non vorrei, quelli che sono i limiti oltre i quali io non riesco a sentirmi a mio agio e a vivere bene. E nel momento in cui io ho una comunicazione di questo tipo, aperta, sincera, in cui io manifesto quelli che sono i miei desideri e dall'altra parte non ottengo nessun tipo di risposta che possa aiutarmi a migliorare, che possa aiutare la relazione a migliorarsi, allora questo è un segnale importante per cui forse bisogna prendere in considerazione il fatto di potersi allontanare dalla relazione stessa. Terzo, prenditi cura di te, cioè mettiti al centro della tua vita, non in un senso egoistico, brutale della parola, cioè che non importa nulla, l'unica cosa che importa sei tu, ma senza di te che relazione puoi avere con un'altra persona. Tu devi essere al centro del tuo progetto, nel senso che se stai bene tu può star bene anche l'altro e viceversa. Non può esserci una relazione in cui una persona sta male e l'altra sta bene nonostante l'altra stia male. E allora è fondamentale che tu ti ponga delle domande sono felice? Mi sento realizzato o realizzata? Sento che questa è la persona con la quale voglio progettare la mia vita? Sento che la persona che ho accanto prova le stesse cose che provo io? Se tu prenderai in mano queste situazioni, probabilmente avrai più chiarezza rispetto a quello che potrai fare in futuro in questa relazione e con te stesso. Quattro, se ti riesce veramente difficile perché senti che è qualcosa di molto forte per te poter prendere una decisione anche di allontanamento da questa persona, puoi iniziare a pensare di confidarti con persone, amici, parenti che stimi, che ti stimano, che sai che ti vogliono bene, che possono darti dei consigli, avere un punto di vista più aperto sulla situazione. E se non bastano queste persone, allora forse è il momento di chiedere aiuto anche a un professionista, uno psicologo, uno psicoterapeuta che ti aiuta, che ti aiuti a trovare delle risorse che possono esserti utili per poter ritrovare te stesso e quindi te stesso nella relazione. In conclusione allora diciamoci che il breadcrumbing è un fenomeno emotivamente dannoso che può influenzare negativamente la nostra percezione di noi stessi e anche le nostre relazioni. E allora se vuoi mantenere il tuo benessere emotivo, se vuoi coltivare la tua salute e vuoi sentirti bene con te stesso e con gli altri, se ti trovi in una situazione di questo genere devi prenderne consapevolezza e iniziare a lavorarci perché probabilmente non c'è nulla di sano in questo modo di giocare con le emozioni del proprio o della propria partner. Se sei arrivato a questo punto allora e se ti piace il modo in cui io gestisco questo canale, il modo in cui io tratto questi argomenti, ti chiederei allora di iscriverti al canale stesso e se vuoi dare un sostegno concreto puoi abbonarti al link che lascio qua sotto in descrizione con il quale potrai offrirmi virtualmente un caffè al mese con il quale riconoscere il mio impegno nel divulgare questi argomenti. Grazie a tutti.